Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video Oggi ragazzi finalmente siamo arrivati al grande giorno del raduno Allora ragazzi prima che cominci il video vi volevo dire una piccola premessa Ho deciso di non registrare il pezzo in cammino per il raduno Perché non aveva senso visto che ero solo E quindi ho deciso di iniziare a registrare nel momento in cui si siamo radunati tutti E abbiamo iniziato ad andare in giro Quindi detto questo non perdiamo altro tempo e diamo inizio al video Ciao a tutti 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 Ciao a tutti